Anche quest'anno l'accensione dell'albero segna l'inizio delle feste natalizie, qual è l'impegno della Banca per le festività senesiche? Io credo che anche quest'anno l'accensione dell'albero e poi conseguentemente l'accensione di tutte le luminare, chiamiamole così, della città, è una testimonianza, ancora una testimonianza, che la Banca Monte dei Paschi di Siena è non solo attaccata al territorio, ma è parte integrante del territorio. Credo che il progetto sull'illuminare è un progetto che ormai il monte persegue da diversi anni, è un modo per scaldare il centro della città. Io credo anche che sia per scaldare sotto certi aspetti i cuori, ma anche, come possiamo dire, le aspettative anche, non solo dei nostri cittadini, ma anche di tutti coloro i quali avranno occasione di visitare la magnifica Siena durante il corso delle festività natalizie.